Prima della partenza della squadra per Milano, quindi ci sono già arrivati i primi contributi e tra pochissimo vi mostreremo altre immagini, vedete Mario che salta, che festeggia con l'amico Marco Arnautovic prima di salire sul volo che li porterà poi a Milano. Io credo Nagy, non so se sei d'accordo che nelle particolari classifiche degli uomini da festa la coppia Ballotelli-Arnautovic abbia pochi rivali, penso al mondo per quanto riguarda le celebrazioni, l'abbiamo visto in Team Cup all'Olimpico, l'abbiamo visto anche quest'oggi. Abbiamo tra l'altro un ospite che volendo salutiamo, anzi salutiamo assolutamente, è venuto a trovarci, ci mancherebbe. Oh caro Marco Santin come stai? Si sta meglio, adesso si sta meglio, oggi meno, ho avuto paura perché a furia di leggere i giornali e vedere dei canali tipo Skype per non fare nomi che continuavano a dire e parlare solo delle partite dell'Inter ho avuto paura, però siamo i più forti di tutti. Siamo assolutamente fortissimi. Siamo i più forti di tutti, di tutto e non ce n'è per nessuno e questa piazza lo dimostra. Mentre abbiamo Osa. Quanto queste sono sempre le immagini realizzate dal nostro Gabriele Carenzi sul volo che ha portato la squadra e anche il nostro gruppo di Inter Channel da Siena a Milano. Ale, chi è il capopopolo della terrazza? D'Italia, eccolo qua, il capitano assieme a Diego Milito. Buonasera a tutti interisti, siamo una famiglia albanese che vive a Firenze, interisti a vita, grandissime emozioni, pianti di gioia e di poesia, sei grande come il tuo nome, sei bella come quel podio, sei un amore eterno, un bacione dalla famiglia. Tusci, un abbraccio a tutti voi, sono Rosanna dalla provincia di Bari, anch'io oggi festeggio il mio compleanno, 50 anni, ma il regalo più bello è questo meraviglioso scudetto. Grazie ragazzi al mister e al presidente, un abbraccio a tutti voi, chi può fermarci? Credo nessuno, forza grande Inter, facci sognare ancora Enrico. Ale, arrivo subito da te in piazza Duomo, Susanna Edo. Grazie, ciao a tutti ragazzi di Inter Channel, vi voglio bene, vi auguro una buona Inter e un po' vi invidio perché abitate a Milano, il messaggio è di David da Trento. Grazie ragazzi, è stato un anno bellissimo, ho vissuto dal vivo con voi, sempre a San Siro, pioggia, vento, neve, cero e ci sarò sempre. Grazie Inter, questo è il messaggio di Federica da Pordenone. Vi leggo l'ultimo di Sara, meraviglioso, grazie ad esistere, José Murigno nel cuore. Torniamo però in piazza del Duomo, così alteriamo un po' di contributi, vedete la fotografia di Christian Kivu, Wesley Snyder che abbracciano insieme a Marco Arnautovic la Coppa dei Campioni d'Italia. Andiamo in Duomo, Ale, Susanna.